Il campione di inverno, inverno che quest'oggi qui a Tagliarra è arrivato e si fa sentire che è molto molto freddo, la nostra polizia del campo sono forti anni per l'essere, più che vuole per l'esercizio, però molto molto freddo, andiamo subito alla lettura delle formazione in campo, dopo se c'è un'azione sotto, qui si fa dell'Aglianese con Bellanese, tu e sinistro, dopo sono i 29 secondi, Torrella, a sinistra, va a puntare Solimano Rosalda, entra in area di rigore per Colco, immagino di Colco e la Pallanese, Pallanese è subito in vantaggio dopo 8 minuti, non irreprensibile, la difesa di Pallanese decisamente morbida, e poi Brega può calciare il destro di Brega, è un duo strepitoso, quello di Christian Brega, che trova l'angolo, lontano, un colpo da biliardo di Christian Brega. attenzione Almoside sinistro! bravi il solo del buono per il torpone in sostanza non lo so e ci accacciano i primati non ci accalzi 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 e e guido male non ci accalzi Non c'è il giro di questo strumentale. No, 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 no. Fuori! Fuori! Metta la prega a destra. No, 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 no. Non c'è il giro di un giro di un giro di una somma di destra. E' interessante. Eh Giorgio, non ti fermai, Giorgio! Segui un giro di 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 un giro. Allora la strada, signor del Dalla. Allora la posta, bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.